Eccoci quindi qui ragazzi allora, benvenuti in questo nuovo video di speciale calcio mercato. Lo so, lo so bene che il mercato ancora non è iniziato e che sicuramente le voci che vengono fatte in questo momento lasciano il tempo che trovano. Fatto sta però che questo interessamento della Roma per l'attaccante attualmente in forza alla SPAL, Andrea Petagna, sta andando aumentando sempre di più, perché la Roma non sembra essersi convinta particolarmente dell'opzione Kalinic come vice Dzeko e si sta guardando intorno per cercare delle soluzioni ovviamente abbordabili, non nomi troppo altisonanti, per cercare di dare un po' di fiato a Dzeko che finora, vuoi anche per l'infortunio dello stesso attaccante croatolo, sta giocando praticamente tutte in maniera un pochino altalenante. Questa notizia l'ho scoperta tramite l'app OneFootball, ovviamente vi invito a scaricarla tramite il link in descrizione e vi faccio vedere in maniera molto semplice come si può appunto rimanere sempre aggiornati. Basta semplicemente aprire l'applicazione e si può subito scegliere la squadra che si vuole appunto seguire. Tramite le varie impostazioni, come vedete basta cercare semplicemente su Preferiti, si trova la squadra inerente tramite il campionato ovviamente in cui questa squadra gioca e una volta selezionata questa squadra potrete seguire tutti gli aggiornamenti a riguardo, non solo una squadra di club ma anche una nazionale, quindi un mondo aperto diciamo a tutte le possibilità calcistiche. Una volta selezionata la vostra squadra, ovviamente nel mio caso scelgo la Roma, vengono subito in automatico tutte le notizie inerenti alla Roma, uscite in questa giornata e anche precedenti. Quindi se voi volete rimanere sempre aggiornati, OneFootball fa per voi. Tra l'altro come potete vedere uno dei primi articoli che mi è venuto fuori è proprio quello inerente all'interessamento della Roma per Petagna. Visto che il giocatore comunque è stato accostato alla Roma, giustamente gli hanno fatto un'intervista per capire un po' quale potrebbe essere la sua sensazione in merito a questo possibile trasferimento. Vi leggo brevemente una parte di questo articolo e poi lo commentiamo insieme. So di essere un giocatore importante per la SPAL e mi sono assunto la responsabilità. È stato emozionante calciare un rigore a Roma. È già il secondo. Sono contento per il gol ma purtroppo non è servito. Interesse di tante squadre, giustamente i giornalisti non vedono l'ora, non vedono. Decide il presidente. Sono un giocatore che ha fatto 22 gol da quando è qui. Devo tanto alla società e a Semplici che mi ha sempre dato fiducia. Sono contento qui. Poi è chiaro che se arrivasse un'offerta importante per la mia carriera ne parleremo. Questo è il punto diciamo focale di questa intervista. Poi ha detto anche altre cose, però è normale che una volta detta questa frase tutti i giornali hanno pensato sicuramente si riferisce alla Roma. È una squadra che si sta attualmente muovendo di più per acquistarlo quindi sicuramente il giocatore ci sta pensando. Sicuramente non è una scelta facile. Non è una scelta facile perché vorrebbe dire andare via da una squadra in netta difficoltà per inseguire un sogno personale. Non che sia una sorpresa nel mondo d'oggi, ci mancherebbe altro, anzi nel calcio d'oggi. Però comunque sarebbe una scelta complicata visto che come ha sottolineato la Spal è stata la squadra che ha maggiormente voluto credere nelle sue potenzialità. E quindi a quanto pare tra i vari nomi come Mariano Diaz, il solito Ibra e tanti altri sembra che Petagna sia salito nelle gerarchie. E io vi dico la verità. Non l'ho mai considerato un fenomeno ma a Roma Spal mi è piaciuto. Per quanto la Spal soprattutto nel secondo tempo ha limitato molto la propensione offensiva Petagna ha fatto esattamente quello che Fonseca vorrebbe dal proprio attaccante. Recupero palloni, sponde, tanti falli conquistati e anche una buona benarializzativa perché sì ha segnato su rigore però dopo pochi minuti è andato tanto così dal segnare il gol dell'1-0 tra l'altro un tiro molto bello nella modalità dell'azione simile a quello di Vlaovic anche se quello di Vlaovic ovviamente è molto più bello perché ha segnato e perché viene da una corsa a centrocampo però anche Petagna era in una situazione molto defilata eppure è riuscito a colpire in maniera molto angolata spegnendo la palla fuori di un soffio con la parata di Paolo Lopez. Quindi sotto questo punto di vista a me non dispiacerebbe sicuramente adesso mi verrete a dire ma che ce fai con Petagna? È un giocanattaccante da Spal! Io ragazzi l'ho capito, lo ripeto, non è un fenomeno però è un giocatore che mi sembra in campo motivato sempre e comunque. Tecnicamente non sarà eccezionale ma ragazzi ve lo rispiego alla Roma serve un vice Dzeko non un giocatore che metta Dzeko in panchina. Nella situazione attuale della Roma non possiamo pretendere che vengano fatte spese clamorose per una riserva di Dzeko. Già Kalinic secondo me andava bene, non è mai stato un fenomeno neanche lui ma come riserva ci stava. Purtroppo il giocatore per diversi motivi quale infortuni muscolari ha fallito finora e visto che la Roma sembra convinta a rimandarla al mittente con l'Atletico Madrid che potrebbe rispedirlo in prestito alla sua ex squadra e cioè la Fiorentina ovviamente bisogna guardarsi intorno perché serve un giocatore che faccia riposare Dzeko senza far sentire troppo la mancanza e almeno a livello di caratteristiche per Mepetania potrebbe andare bene. Poi dipende anche da quanto ti sparano loro e quanto effettivamente la Roma può mettere come budget per l'acquisto perché comunque ok che sarebbe un buon acquisto secondo me ma bisogna anche saper valutare quanto effettivamente può valere. Tra l'altro poi considerando la sua diatriba con ghiottoni non mi dispiacerebbe vederla a Roma e magari segnare in un dermi. Vabbè a parte gli scherzi comunque sicuramente lo ripeto è un giocatore che ha buone qualità e altre decisamente migliorabili secondo me dovrebbe perdere anche qualche chiletto perché l'ho visto abbastanza pesante ecco contro di noi però comunque è un giocatore che come ho appena detto non si risparmia mai ed ha sempre il 100% in ogni partita. Poi può bastare e può non bastare però sicuramente è un giocatore che in campo si impegna e si dà l'anima quindi io sinceramente se dovesse arrivare lui al posto di Kalinic non sarei particolarmente dispiaciuto perché comunque è un giocatore che anche con qualche rigore i suoi gol li fa l'anno scorso arrivato comunque a 16 gol e anche togliendo i rigori comunque ne aveva fatti più di gecko lo scorso anno quindi sostanzialmente si vede che il giocatore ha una stima nei nostri confronti nei confronti del suo possibile compagno di reparto e quindi è un affare che potrebbe essere portato avanti anche grazie alla volontà dello stesso giocatore. Comunque adesso aspettiamo un po' vediamo un po' all'inizio del mercato invernale quali scelte farà la Roma sotto questo punto di vista io non posso giudicare Kalinic finora. Adesso sicuramente posso pensare che Petagna sarebbe meglio perché è più giovane perché è più fresco atleticamente non tanto a livello di pesantezza ma a livello proprio di presenze perché comunque credo che le abbia giocate praticamente tutte quindi sotto questo punto di vista sarebbe un vantaggio. D'altro canto però non riesco a giudicare Kalinic perché ha giocato due o tre partite per poi infortunarsi e tornare solo la scorsa giornata per pochi minuti quindi ecco se vogliamo comunque liberarcene al gennaio va bene ce lo accetto però non mi sento neanche di dire che è stata una bocciatura perché il giocatore ha avuto talmente così poche occasioni per farsi valere che giudicarla appunto come bocciatura definitiva mi sembra un po' sciocco perché comunque più di così difficilmente poteva fare. Comunque ragazzi allora a quanto pare la Roma si sta interessando su Petagna quindi la domanda che vi faccio è ovviamente la solita. A voi piacerebbe vedere Petagna con la maia della Roma dal mercato invernale in poi per giocare questi ultimi sei mesi di questa stagione con la maia giallorossa al posto di Kalinic? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Vi ricordo ovviamente le classiche cose di lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto potete trovare in descrizione il link non solo per scaricare OneFootball ovviamente il primo link ma anche per iscrivervi al mio canale Telegram siamo già 55 56 persone e voglio che aumentino sempre di più per potermi confrontare apertamente con tutti quanti voi e in ultimo c'è il link anche per poter acquistare il biglietto tramite la promo studenti ed assistere a Roma Torino che si giocherà il 5 gennaio 2020 alle ore 20 e 45 spendendo solamente 15 euro. L'unica cosa che dovete fare è acquistare il biglietto tramite il sito ufficiale selezionare la parte dedicata alla promo studenti e recarvi allo stadio per vedere la partita con un documento che atteste appunto che voi in questo momento siete studenti di scuole elementari medi, superiori e universitari. Ho praticamente detto tutto, vi rinnovo ancora una volta i saluti un abbraccione, un salutone, ciri ciao gente, ecco adesso mi è scappato il Dexter di turno comunque ci vediamo alla prossima e sempre e comunque forza Roma ciao ragazzi